rieccola se anche il telefono mi facesse la mossa messo a fuoco sarebbe cosa gradita allora ho comprato un bel po di gel colorati ne ho presi un bel po della new pearl ho fatto la cazzata di prenderne anche due uguali perché sono una minghiona non me ne sono d'accordo si vede quando schiacciato nel carrello l'ho pucciato due volte invece che una vabbè avremo la scorta per i prossimi 550 anni non avrò più bisogno di comprare così non dovrò più bisticciare con i corrieri comunque il primo colore che ho preso è il lemone ic e adesso ve li leggo la madonna non li ho tolti tutti vedi questa roba ha già preso delle cartelle perché vedete che il vasetto è già tutto smerdicchioso adesso vediamo se riusciamo a toglierlo vabbè non mi sembrano coprentissimi comunque è così adesso speriamo che quando poi se riesco a riprendermi il tappino lo stendo su tip sia bello coprente però è così e il colore come lo vedete a videocamera o per meglio dire il telefonino vi sta mostrando il giallo per quello che è è uno poi abbiamo preso il 2 che è cosmic blu e c'è fra tutti ciò qua vabbè portate pazienza finiremo nell'anno del poi del seno del mai che di questo questi cazzo di scusate corrieri è veramente e mi sa che vanno tutti mesciati adesso non c'ho voglia di mesciarli però quello che vedete è bello per l'uso bello ma piace ma pace poi prenderò le tip e andremo a stenderli così salam alaikum leka mal sala e vedremo come rendono su tip poi froggy green il mio inglese la mia pronuncia è veramente fantastica adesso tutte ste cartine santo cielo cielo santo io veramente gliele metterei per cappello un attimino che ho già sporcato tutte cose perché sono imbaranato dovrei pulire questa farina qua prima di fare una comunque così molto bello anche questo speriamo che siano belli coprenti almeno alla seconda passata e voilà ed era il numero 6 poi abbiamo il numero 7 coffee pearl calcolate che ho preso dei colori che a me non è che fanno impazzire però e per accontentare tutti i gusti ah questo era ah questo era quasi decente mamma mia è un miracolo questo che è così bello questo mi piace un bel verde marrone non è neanche proprio di qua dicono caffè ma è più sul verde che sul marrone però vabbè bello 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 ci piace ci piace ma la beauty space in a alla fine da dei bei prodottini peccato che GLS ci fa cira ai palle però vabbè pinkie pie pie non è torta sto dicendo una cavolate adesso aspettate che io faccio i disastri e ve li mostro tutti ecco qua che mi sono riempita nudito ed è così molto bello anche questo mi piace ci piace ci piace fino a qua ci piacciono eh abbiamo dovuto aspettarli dieci giorni però dai ce l'hanno fatta penso che lo al prossimo ordine lo farò tra 3 mila anni perché non c'è veramente più soldi 1 e 2 non c'ho voglia di incazzarmi tutte le volte per per le per le per le consegne questo qua ovviamente ne avrò da qui all'eternità però vabbè cercherò di sbolognarlo prima adesso guardate come sono riuscita a tocciare tutte cose cioè io sono un disastro sono riuscita a impiastrare tutto vabbè pace lo useremo per primo e l'altro metteremo di scorta lo dividiamo già poi ho preso il venti che è orange juice e tap stu tap e strata e io non c'ho le unghie che me le devo ancora fare ma penso che non me le farò non c'è testa questo bello arancioni qui proprio carino ci piace un bel po' siamo contenti siamo contenti ha dei bei colori poi quando sono in saldo che costano pochissimo sono ancora più belli che cattivone che sono tanto me l'hanno fatta spurgare con la consegna quindi comunque questo era il numero 20 orange juice e poi recensione dell'ultimo per questo video perché poi ne farò un altro che c'è ancora tutta sta roba qua tutta sta roba di là è un casino è il numero 36 forest blue eppala e cartina non deve mancare aspettate che e vienitene senza farmi sporcare tutte cose questo è più denso ed ecco se bello 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 ci piace quelli come li avete visti attraverso il video sono veritieri eh sono proprio così anche del vivo c'è garbano c'è garbano c'è garbano questi erano i gel new pearl e ci vediamo tra un attimo che vi giro l'altro video poi ve li caricherò uno al giorno e voilà o due adesso vediamo ciao dopo dopo